A causa dello stato di malattia di una dottoressa sono state rinviate solo le prestazioni non urgenti, mentre per i casi di stretta necessità sono stati trattati tutti e immediatamente. Lo precisa il manager della AS, la Vezzanos Monalacuila, Rinaldo Tordera, su servizio di ematologia dell'ospedale dell'Annunziata. La raffica di segnalazioni è arrivata nei giorni scorsi al Tribunale per i diritti del malato, che si era subito attivato presso l'azienda sanitaria, dal momento che diversi utenti sono stati rimandati a casa, come era accaluto le scorse settimane per altri servizi. Ad onor del vero, il medico non è stato destinato all'altra sede, come si era preso in precedenza, ma si è trattato di un'assenza per malattia che comunque ha creato disagi e rinvii per le prestazioni non urgenti. Il rinvio delle attività non urgenti, chiarisce il direttore generale Asle Tordera, è stato quindi dettato da motivi imprevedibili, cioè l'indisponibilità per malattia della dottoressa, che peraltro è già rientrata in servizio, ristabilendo così le ordinarie condizioni operative. Si ripropone comunque il problema della carenza di personale, che rimane la patologia cronica per il nosocomio dell'annunziata, l'Asla già annunciato di bandire quattro concorsi.